Piano regionale di sviluppo 2021-2025 via libera ma a maggioranza. Il piano regionale di sviluppo è stato approvato infatti dal Consiglio regionale con 23 voti a favore Partito Democratico Italia Viva e 15 contrari Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani. Prima della votazione finale sono stati discussi e votati molti emendamenti, di cui alcuni approvati. 25 quelli presentati dalla Lega, 18 quelli che arrivavano dal gruppo di Fratelli d'Italia, voto positivo anche su tre emendamenti del Movimento 5 Stelle, mentre il PD ha presentato a sua volta 11 emendamenti che sono stati approvati dall'Aula. Questo è l'atto più importante di programmazione dell'Assemblea Legislativa, lo dico a chi ci segue da casa. È un atto in cui si segna qual è il futuro, il profilo della Toscana. Noi in questo documento abbiamo costruito le condizioni perché un bimbo che nasce nel borgo più piccolo della Toscana possa avere gli stessi diritti, il diritto alla salute, il diritto alla formazione, il diritto allo studio. Abbiamo costruito le condizioni per tenere insieme i fondi strutturali europei, per il sostegno alle nostre imprese, alla formazione, al cambiamento necessario, sia al cambiamento legato ai processi di digitalizzazione, sia alla transizione ecologica. Abbiamo costruito le condizioni per nuove iniziative culturali sul nostro territorio. Questo è uno strumento che insieme al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci dà la speranza che la Toscana possa crescere. Noi non vogliamo che la Toscana sia solo una terra in cui si viva di rendita, ma una terra che permetta alle imprese, quelle più giovani, di poter crescere e competere nei mercati internazionali, a quelle più solide di costruire nuovo lavoro e nuova occupazione. Che questo lavoro sia un lavoro, come ho detto prima, sicuro, un lavoro degno, un lavoro che richiede anche, e questa è una norma nazionale, speriamo possa essere presto, diciamo, sostenuta anche da questo governo, di avere un salario minimo garantito. E infine la sanità. È evidente che senza maggiori trasferimenti da parte dello Stato si rischia di non poter offrire ai cittadini quello che i cittadini vogliono, una sanità di prossimità, una sanità più veloce. Il programma regionale di sviluppo, il quale però si pone in un'ottica complessiva di rilanciare anche alcuni settori particolarmente importanti e significativi del territorio regionale. Tra questi, ad esempio, quello della cultura. La cultura vista come motore di sviluppo socio-economico di un territorio, come strumento attraverso il quale rilanciare il turismo. Non a caso in questo programma troviamo un costante riferimento al progetto degli uffizi diffusi, appunto attraverso una valorizzazione del patrimonio storico-artistico, anche degli enti locali, dell'intera regione. Non mancano poi gli aspetti programmatori fondamentali collegati alla salute e collegati all'integrazione socio-sanitaria. Con riferimento in particolar modo al diritto alla salute, si deve considerare come da sempre la regione toscana, con il suo modello di sanità pubblica e universalistica, sia stata in grado di garantire standard di qualità e di quantità nelle prestazioni molto superiore rispetto alla media nazionale. Questa è la prospettiva nella quale si vuole collocare l'azione di governo di questa legislatura, facendo non soltanto pressione presso il governo affinché possano aversi maggiori risorse sul fondo sanitario, ma anche tenendo conto degli importanti investimenti sulla sanità territoriale che verranno attraverso le risorse del PNRR che presto porteranno a fronteggiare nuove assunzioni, nuovi investimenti sul personale e anche una necessità di ripensare l'attuale assetto del personale nelle aziende sanitarie. Un sostegno forte dell'Italia Viva ha un documento di programmazione regionale più importante, una nostra battaglia vinta, quella di fare in modo che nelle aree rurali possano arrivare gran parte dei prossimi finanziamenti comunitari, ripartire in maniera equa in tutta la Toscana le risorse comunitarie che sono quelle che poi determineranno linee di sviluppo, per noi è un elemento importante, un piano regionale di sviluppo che investe sulle infrastrutture, che conferma la centralità dell'aeroporto di Firenze, interventi importanti sulla tirrenica, sulle arterie di miglioramento infrastrutturale, un piano regionale di sviluppo che punta sul lavoro, punta sull'economia diffusa, che fa delle aree interne anche un elemento importante di novità assoluta dentro il quadro della programmazione e soprattutto i nostri emendamenti che sono stati approvati, ne fanno parte in maniera integrante della ripartizione equa delle risorse comunitarie rispetto a quelle del PNRR ma allo stesso modo la possibilità di fare finanziare interventi per esempio per la sanità privata affiancando quella pubblica con interventi di miglioramento degli elementi informatici e non solo tecnologici delle strutture e miglioramenti rispetto alla proposta, ai servizi e alle esigenze che i cittadini chiedono rispetto ai servizi sanitari e sociali, quindi una risposta importante che ci ha visto convintamente sostenere questa manovra. Proseguono i lavori in aula sul piano di sviluppo regionale e ci sono dei momenti che sono veramente scioccanti, uno di quelli che stamattina abbiamo affrontato riguarda la presenza o meno di Puccini all'interno del piano, non lo diciamo soltanto come rappresentanti del territorio lucchese ma Puccini è considerato e lo consideriamo non soltanto un simbolo della Toscana nel mondo ma per quanto riguarda lo sviluppo di casa nostra è un invariabile infrastrutturale, la capacità di Puccini di creare indotto, di creare sviluppo, di creare commercio, cultura, attrazione è superiore a qualsiasi allargizione di bilancio venga fatta dal Partito Democratico che risponde agli emendamenti presentati dal centro-destra anche quando questi hanno non il piglio dell'ostruzionismo ma quello del consenso e della buona proposizione per cercare di governare la regione toscana nei prossimi dieci anni, anche questa occasione viene persa e viene infisciata semplicemente per discorsi a livello qualunquistico. La maggioranza, il centro-sinistra, il PD ci ha bocciato l'emendamento in modo incredibile non accogliendo un'istanza che io credo assolutamente giustificata non solo nel sostegno a due fondazioni importanti come la Fondazione Carnevale di Via Eggio e la Fondazione Festival Pucciniano che hanno necessità, come richiedono da tempo, di avere sostegni strutturali e programmati ma soprattutto anche in considerazione del fatto che il prossimo anno celebreremo i 100 anni della morte di Giacomo Puccini nel 2026 avremo i 100 anni della prima di Turandot c'è un comitato per le celebrazioni pucciniane che è costituito con legge dello Stato e che ha a disposizione 9 milioni e mezzo da spendere proprio per celebrare Giacomo Puccini e la giunta Gianni e la maggioranza Gianni e il PD e il centro-sinistra non trovano spazio all'interno del piano regionale di sviluppo che parla di tutto e del contrario di tutto per dire qualcosa e sostenere Giacomo Puccini per sostenere questi enti culturali che sono così importanti Noi parliamo del documento principe che dovrebbe caratterizzare l'azione amministrativa a maggior ragione in un momento in cui la Toscana in una fase di post pandemia dovrebbe vivere con diciamo slancio anche quelle che sono le sfide del futuro in particolare le sfide generazionali ecco è inaccettabile per noi che un presidente di regione parli tra le 10 e le 11 di sera senza di fatto rispondere nel merito a nessuna delle censure seppure puntuali che sono state fatte dalla Corte dei Conti ma anche rispetto a dei temi che sono cruciali noi viviamo un momento difficile è un momento in cui l'inflazione morde in cui ci sono difficoltà per le famiglie in cui ancora non sappiamo bene il destino di alcune realtà economiche partecipate dalla regione toscana ecco in questo contesto sentir parlare di una Toscana che viene definita del fare quasi in una sorta di modo quasi di snobbare il Consiglio regionale che legittimamente dice da settembre sarà fondamentale ricominciare il lavoro da dove è stato lasciato e mi sento proprio di dire così lasciato da questa giunta cioè da quelle che sono le ambizioni messe su carta del PRS e del DEFR e che per essere implementate hanno bisogno di un deciso cambio di rotta ci sono tanti aspetti per combattere le disuguaglianze tutte le questioni che riguardano l'edilizia residenziale pubblica la tutela del lavoro la bonifica dei siti l'ambiente il ripristinare alcune leggi e soprattutto alcuni limiti che mettevano dei paletti all'utilizzo del suolo tanti aspetti tra i quali anche il lavoro per la multiutility anzi contro questa multiutility e contro progetti scelerati come la terza torre di Novoli inaudita in un momento come questo e progetti anche come quelli che riguardano la tutela dell'ambiente della qualità delle acque le comunità energetiche molti temi di cui questa giunta vorrebbe appropriarsi o lo fa sulla carta ma che in realtà non riesce a implementare che sono stati portati avanti a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle e che continuiamo anche a portare avanti a livello territoriale per la tutela di coloro che combattono contro le disuguaglianze e contro una Toscana che sia più equa più giusta veramente non a due tre velocità come purtroppo ci ha condannato a essere questa giunta Aumento di capitale per 28 milioni ridefinizione della governance e sottoscrizione del nuovo patto parasociale il tutto entro il prossimo 31 dicembre è una volta esaurita la procedura di selezione per individuare il nuovo socio privato questo è il piano di rilancio di Firenze Fiera società che gestisce le principali strutture fortezza da basso pala congressi pala affari adibite ad ospitare eventi congressi meeting ed esposizioni a Firenze di cui la regione toscana detiene il 31,9% il piano è stato illustrato dalla giunta in consiglio regionale nella seduta prima della pausa estiva una situazione delicata da quale Firenze Fiera deve uscire la regione deve fare la sua parte così come gli altri soci pubblici ma anche con la ricerca di un partner privato che avverrà attraverso un bando di manifestazione di interesse in altre situazioni questa presenza ha anche funzionato ma dobbiamo cogliere questa occasione così come abbiamo sollecitato anche in precedenza per dotare la Toscana di un polo fieristico unico o comunque coordinato Firenze Fiera è 15 anni che non chiude un bilancio in pareggio o in attivo ne ha chiusi forse uno nel 2010 poi ha sempre perso oggi ha un bilancio disastroso è governata da una figura che con tutto il rispetto umano politico e anche personale perché ci sono anche amico personalmente non è in grado di fare il manager è un politico che ha come merito quello di aver fatto politica per anni col partito democratico ma questo non può essere il merito per cui tu vai a governare un ente fieristico stiamo votando Firenze Fiera ha votato un piano di risanamento che l'advisor Ernst Young che è stato chiamato a redigerlo scrive in prima pagina prendiamo le distanze dai numeri e dalle procedure che ci sono qua dentro perché ce li hanno forniti loro ma non hanno evidenze scientifiche parla del piano industriale e lo definisce scarso come si può pensare che un soggetto privato arrivi investa 12 milioni di euro e rilanci Firenze Fiera noi chiediamo semplicemente che la regione toscana il comune la città metropolitana prima di spendere 16 milioni di euro dei cittadini perché di questo si tratta abbia perlomeno chiarezza e contezza di chi sarà se ci sarà se esisterà questo fantomatico socio privato che dovrebbe arrivare a rilanciare Firenze Fiera Sì ovviamente il sistema feristico toscano ha bisogno di essere armonizzato organizzato e programmato il nostro è un voto di fiducia sulla possibilità di portare intanto un partner privato nella governance di alleggerire ovviamente la dimensione e l'impegno pubblico ma per cercare di rilanciare e migliorare l'integrazione fra realtà come Firenze Arezzo Carrara e non solo ci sono di mezzo anche le opportunità per le città termali serve integrare l'offerta fieristica e serve soprattutto fare un unico calendario a livello nazionale e provare a parlare una lingua sola per fare della Toscana diciamo un luogo dove le fiere vengono programmate organizzate e distribuite su tutto il territorio regionale facendone di questo un motore di sviluppo cioè aspettare quello che il socio privato che dovrebbe intervenire al quale delegare completamente tutte le strategie e sarà un socio ci auguriamo privato che non abbia la maggioranza io credo che questo sia la fotografia purtroppo mi dispiace dirlo di un'altra eccellenza così come il maggio musicale florentino così come Firenze e Fiera di un fallimento totale di un'organizzazione di un'amministrazione è stata approvata la proposta presentata dal partito democratico primo firmatario Andrea Vannucci a proposito di una legge a tutela dei lavoratori esposti a caldo estremo consiglio unanime l'atto modifica la legge regionale 28 del 2019 particolare attenzione nel tema della prevenzione del rischio da stress termico credo che ribadire con una legge una una questione di questo genere possa essere assolutamente utile in fin dei conti esistono per esempio a Dubai esistono degli orari di lavoro che sono notturni quindi è giusto che anche noi teniamo conto di questi sbalzi di temperature che magari fino a qualche anno fa non ne venivano nemmeno prese in considerazione si dice non ci sono le mezze stagioni in realtà mi sembra che ci sono soltanto brevi stagioni intense sia estive che invernali vedete i vari acquazzoni che leggiamo quotidianamente per cui a parte gli scherzi credo che questa legge sia appunto una legge di buonsenso che ribadisce certe situazioni cambiate nell'arco degli anni e chiaramente abbiamo votato favorevolmente in aula è una proposta che in alcun modo limita la capacità di esprimere la produzione ma tiene conto invece delle necessità anche dei lavoratori che a fronte di un cambiamento climatico che in questi giorni abbiamo avuto modo di non apprezzare ma di verificare con forza e tenga conto di queste necessità ci sono operatori nel campo dell'edilizia nel campo dell'agricoltura che si trovano nelle ore centrali del giorno sotto temperature incredibili a dover lavorare che cosa è che si chiede il rispetto di questi lavoratori mantenendo lo stesso orario di lavoro ma sposticipato dalle ore centrali quelle più calde una canicola che ormai non è più un'emergenza è una costante perché sono già diverse state in cui per periodi più o meno lunghi le temperature raggiungono vette altissime e questo ha un impatto sulla salute di chi lavora soprattutto di chi lavora in determinate condizioni penso ad alcune categorie ma sicuramente è un elenco che non può dirsi concluso penso per esempio a chi lavora nell'edilizia a chi lavora sulle strade a chi lavora in alcune cucine questo evidentemente è un qualcosa che merita la massima attenzione da parte della politica e non soltanto questo è un percorso che avevamo iniziato presentando la proposta e con il lavoro in commissione diciamo quando le temperature erano più umiti evidentemente e il calendario ha voluto sostanzialmente che si arrivasse al voto forse nel periodo più caldo dell'anno anzi sicuramente almeno fino adesso nel periodo più caldo dell'anno per fare un salto nel 1300 non resta che attendere il secondo fine settimana di agosto per una tre giorni nel castello di Rocca de Federighi nel comune di Rocca Strada dove vive rappieno Medioevo del Borgo un evento ideato e organizzato per la prima volta nel 1992 quasi per gioco ma che anno dopo anno è riuscito letteralmente ad esplodere riportando indietro le lancette del tempo fino al 1300 in un mix vincente tra storia leggende giochi e gastronomia siamo davvero onorati di poter ospitare questo evento bello importante un evento che vede davvero migliaia e migliaia di visitatori venire a conoscere uno dei borghi dei luoghi più belli della nostra regione e in questo caso in particolare ci riporta nel 1300 vede tanti turisti tanti cittadini venire a conoscere la nostra storia le nostre tradizioni ma anche la bellezza di un borgo come quello di Rocca Tederighi mi dà il senso davvero dell'idea di una ripartenza di una ripartenza che c'è stata e che noi viviamo con l'auspicio che possa continuare sempre così anzi queste iniziative possano attirare ancora più turisti nei nostri territori il medioevo nel borgo torna a Rocca Tederighi il 4, 5 e 6 agosto e animerà questo nostro splendido borgo in questo fine settimana con tante novità la prima novità riguarda proprio la location lo scenario che è stato recentemente riqualificato domenica scorsa come amministrazione abbiamo inaugurato via della torre che è la via centrale del borgo di Rocca Tederighi e anche il cuore nevralgico del medioevo nel borgo il nostro territorio è animato da tante iniziative nel corso di questa estate e il medioevo nel borgo rappresenta sicuramente l'evento clou e soprattutto grazie alla Proloco e a tanti volontari che riescono a portare indietro le lancette dell'orologio al medioevo grazie a una spiccata attenzione e a una cura dei dettagli 250 figuranti 10.000 sono le persone che di solito frequentano la manifestazione quindi tutto il paese è a servizio degli ospiti ed è anche un evento oltre che di grande tradizione è un attrattore turistico per tutta un'area quindi siamo davvero lieti di poterlo riabbracciare io fra l'altro ho anche dei ricordi particolari essendo stato un figurante una volta e quindi con affetto e questo ricordo pieno di bellezza è un modo per invitare tutti quanti a tornare a Roccate dei Righi ad agosto i primi di agosto il 4, 5 e 6 nato nel 1979 dedicato alla poesia il premio nazionale Il Fiore di Chiesina Uzanese in provincia di Pistoia è diventato un'importante realtà proprio nella serata di venerdì la cerimonia di premiazione dei vincitori della 35esima edizione nelle due categorie poesia e poesia junior a cui hanno partecipato i giovani delle scuole medie di Chiesina Uzanese Ponte Bugianese e Abetone ma ad inviare le loro creazioni sono stati anche ragazze e ragazzi della città inglese di Manchester è qualcosa di bello di importante che va avanti da tanti anni è un premio che dà il senso dell'idea di noi abbiamo di Toscana una Toscana che investe sui territori una Toscana che investe sulla cultura investire in cultura vuol dire investire in libertà vuol dire dare la possibilità a ciascuno di noi di potersi emozionare un pochino di più e tante ragazze e tanti ragazzi tirano fuori il meglio di loro il loro estro l'estro poetico e riescono a raccontarci punti di vista che a volte sembrano così lontani da noi grazie all'amministrazione comunale grazie al sindaco Fabio Berti perché investire in cultura vuol dire davvero far crescere il proprio territorio premio che sta acquistando sempre più visibilità anche perché durante il covid purtroppo abbiamo dovuto stoppare le edizioni è partito alla fine degli anni settanta da un'idea degli amministratori dell'epoca che hanno rifatto a quella che era l'attività principale del paese che era legata alla floricoltura e quindi da lì poi l'ispirazione a creare delle poesie con il tema del fiore poi ci siamo adeguati ai tempi abbiamo cercato di sollecitare e di stimolare un pochino di più sensibilizzando i ragazzi delle scuole parlando di acqua parlando di ambiente e da lì dall'edizione del 2022 l'apertura con la collaborazione di Acqua per cercare anche appunto di far parlare i ragazzi in tema e in poesia beh il Comune di Chiesino Zanese è uno dei comuni più importanti del nostro territorio nonché socio diretto di acqua noi gestiamo i servizi di con la toscana occidentale una bella affetta toscana occidentale 55 comuni e uno dei compiti fondamentali a cui noi assolviamo è quello della diffusione della cultura dell'ambiente della tutela della risorsa acqua anche la poesia può essere uno straordinario strumento di diffusione della consapevolezza dell'importanza di queste risorse e soprattutto ci mette in contatto anche con molti ragazzi che nelle scuole partecipano anche attraverso queste espressioni di poesia al premio per noi è un asset fondamentale e una collaborazione preziosa con il Comune di Chiesino Zanese e con il suo sindaco di Chiesino di Chiesino di Chiesino di Chiesino di Chiesino di Chiesino